Gentili tre spettatori, buona giornata. I ministri di Forza Italia sarebbero contro il presidente del Consiglio Draghi e Draghi andrebbe secondo le indiscrezioni verso la rinuncia. Alla corsa al Quirinale spetta la decisione di Mario Draghi perché ancora non è veramente ufficiale, lui non ha accettato di essere candidato al Quirinale. Voi sapete che non ci si candida per il Quirinale, si aspetta che ci sia qualcuno a candidare e poi eventualmente si dice sì, va bene, sono d'accordo. Pertanto Mario Draghi non ha ancora completamente dichiarato la sua volontà. Le ultime indiscrezioni parlano di una possibile rinuncia del Premier a partecipare alla corsa al Quirinale. Potrebbe comunicarlo oggi, lunedì 10 gennaio, durante quella famosa conferenza stampa organizzata per parlare del nuovo decreto, visto che si è detto che lui non si è presentato nella conferenza stampa, ha mandato i ministri, quindi vuol dire che non gli interessa, ci sono dei problemi. In realtà lui fin dal primo giorno di questo governo ha fatto così. Non si presentava alle conferenze stampa ma mandava avanti i ministri a parlare. Ha deciso dopo le polemiche di spiegare lui il nuovo decreto o magari con quell'occasione vuole dire qualcos'altro, magari vuole proprio rinunciare alla corsa al colle, probabilmente non gli interessa più. Un possibile passo indietro di Draghi, secondo voci che arrivano dai palazzi. Non da Pino dei palazzi ma da Pai dai palazzi. Dietro potrebbe esserci anche forza Italia con i suoi ministri che spingono verso questa decisione. Tutti vogliono Draghi che rimanga al suo posto, ma non perché c'è la pandemia, c'è Covid e c'è la crisi, la guida, rimaniamo senza guida. No, ai politici non interessa nulla di questo. Draghi comunque è la sicurezza matematica che lo stipendio va avanti fino a fine legislatura. Con Draghi che va al colle la continuità del governo è assolutamente non sicura. Forza Italia dice se Draghi va al colle noi facciamo cadere il governo. Letta dice se Berlusconi va al colle noi facciamo cadere il governo. Allora né Berlusconi né Draghi al Quirinale, ma lo lasciamo Draghi lì dov'è, così il governo non cade. Questa è l'idea dei politici italiani. Non gli interessa nulla della pandemia, stanno parlando solo ovviamente di un tornaconto personale. Beh, così i ministri di Forza Italia spingono Draghi a rimanere a Palazzo Chigi. Anche se l'ipotesi di un governo sempre allargato con l'addio di Draghi per andare al colle ha messo in allarme i ministri di Forza Italia perché il partito del Cavaliere potrebbe ovviamente, farebbe ovviamente parte dell'esecutivo, ma a quel punto gli attuali esponenti Gelmini, Garfagna e Brunetta sarebbero sostituiti da altri come Tafani, Bernini. Quindi perché i ministri di Forza Italia spingono perché Draghi rimanga al suo posto? Beh, è molto semplice, è una questione economico personale. Voi sapete che i parlamentari guadagnano circa 13.000 euro al mese netti. Se questi vengono nominati ministri, il parlamentare 13.000, il deputato 13.000, il senatore guadagna tipo 800-900 euro in più di un deputato. Poi se uno di questi, o senatore o deputato, vengono nominati ministri, lì hanno poi altri 6-7.000 euro in più al mese. Quindi un deputato passa da 13.000 a 18-19.000 al mese. Capite che se il governo rimane quello che è, i ministri rimangono gli stessi e continuano per un altro anno e mezzo a prendersi lo stipendio da 17-18-19.000 euro al mese. Se Draghi va al Quirinale, cambiano i ministri e si perde gran parte dello stipendio. Avete capito qual è il problema della politica? È il loro torno a conto economico personale. E poi dietro un'altra possibile motivazione per non candidare Draghi al Quirinale, ce ne sono altre. Adesso vi racconto qual è. E poi è quella ovvia di tenere Draghi lì, a Palazzo Chigi, tenersi lo stipendio e mandare il loro capo Berlusconi alla Presidenza della Repubblica. Non fa una grinza, no? La rinuncia di Draghi aprirebbe poi scelari importanti per il Cavaliere, che si vedrebbe un avversario in meno sulla strada per il Quirinale. La stessa Lega di Salvini ha già ribadito di volere che il Premier Draghi rimanga Palazzo Chigi, di fatto così portando acqua al mulino della candidatura di Silvio Berlusconi. Attenderemo oggi alle 18, attendere prego, le comunicazioni del Premier in merito alla questione Quirinale, se arriveranno. Qualcuno dice ma non dirà assolutamente nulla, altri dicono no, probabilmente dirà che rinuncia al Quirinale e continua a fare il Presidente del Consiglio. Bene, vedremo oggi alle 18, che cosa ci racconterà Mario Draghi, perché ha deciso di parlare due giorni dopo aver fatto il nuovo decreto, quello con l'obbligo vaccinale. Ma nel prossimo video vi racconto che probabilmente è in arrivo una nuova stretta, un nuovo decreto. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Ricordatevi che siamo anche nell'altro canale di YouTube che si chiama Teleitalia Seconda Rete, dove trovate video di politica ma non solo, e poi c'è anche la pagina di Facebook che si chiama Teleitalia, dove trovate questi video condivisi dopo qualche ora e in modo che se vi sono interessati li possiate condividere anche voi sui vostri profili. Grazie nuovamente, se volete tra 20 minuti un altro video qui sul canale. Grazie e buon proseguimento di giornata.